Allora, aspetta che guardo la luce, guarda che ci sia, io inquadro anche la pista, ad alta voce, noi siamo appena arrivati quindi ci dai benvenuto e ci dici cosa andiamo ad affrontare, vai. Benvenuti alla Lago Maggiore Zipline, oggi proveranno per noi il volo nella doppia modalità, Falcon Style e Freestyle, l'unico, a quanto ci risulta in tutta Europa, l'unico impianto in cui si può decidere di scendere secondo la modalità Falcon che è quella parallele al terreno, quindi come se si fosse appesi a un deltaplano, oppure la Freestyle che è quella in posizione verticale con un imbrago ad arrampicata.